La forte caratterizzazione quest'anno sull'incoming per le universie di Napoli, insomma, metterà in vetrina lo sport, ma soprattutto metterà in vetrina le sue bellezze. Soprattutto se non ci fossimo stati noi o la nostra amministrazione, le universiari a Napoli non sarebbero mai arrivate, che le universiari scelgono Napoli per come Napoli è cambiata. Ricordo a tutti che prima i turisti a Napoli non c'erano, lo ricordo sempre, c'erano dei sacchetti, che non erano turisti. Oggi abbiamo magari, semmai dovremmo parlare di altri temi, cioè di come gestire enormità di flussi turistici e quindi gli eventi sono una grande opportunità per la città, grazie a quello che oggi Napoli rappresenta per la sua immagine del mondo. Noi stiamo facendo un lavoro straordinario per farci trovare pronti, siamo partiti non per nostra responsabilità in ritardo, siamo gli unici insieme alla FISU che ci abbiamo creduto fino alla fine e oggi stiamo lavorando perché quell'opportunità di migliaia e migliaia e migliaia di atleti, collaboratori, assistenti, turisti faccia crescere ancora di più l'immagine di Napoli nel mondo, possa produrre uno sviluppo sostenibile e tanti posti di lavoro. Quindi mi sembra che si stia andando alla grande, dove dobbiamo recuperare sono i servizi e questo per farlo abbiamo bisogno del contributo e dell'aiuto di tutti, anche per farci trovare al meglio già da luglio per le università.